buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti gli amigli che seguono puntuali che seguono fedeli questo canale buongiorno cagazzi allora iscrivetevi tutti mi raccomando condividete questo video con tutti i feccanieri appassionati di calcio e tifosi viola che conoscete seguite viola press viola press viola press punto com per notizie di signore come stai come non stai sulla nostra amata viola va bene seguitemi su instagram alessandro cato 91 per sapere tutta la dipanata di video che vi potete attendere quella di quest'oggi e di questi due giorni è veramente molto semplice stamattina video pre juventus fiorentina questa sera commento a juventus fiorentina quindi attivate il campanaccio il campanello delle notifiche e domani grandi panata calcistica scrivete tutti nei commenti hashtag grandi panata calcistica perché ci sarà il video del giorno dopo juve fiorentina ci guardiamo verona inter la sera e pure milan lazio quindi chiudiamo questo 2000 2020 calcistico con una bella dipanata allora juve fiorentina due tifoserie presenti sul canile voglio 400 like per questo video va bene così d'amblè e non solo visto che solo qui succedono cose che non esistono gradirei che mentre ascoltate le mie sentenze vi scambiaste dei segni di encomio delle effusioni tra tifosi di juventus e fiorentina come foste due squadre gemellate va bene per rendere onore al futurismo di questo canale va bene del canile proprio effusioni calcistiche tra tifosi della juve e della fiorentina tipo cuori bianconeri con quelli viola in mezzo o cose del tipo sono juventino ma stasera spero vinca la fiorentina tutte cose di questo tipo ok nei commenti mi raccomando scambiatevi effusioni come foste hashtag come foste gemellati così così per gradire detto questo ho visto le notizie della fiorentina in questi giorni ci sono parecchie notizie inerenti il calciomercato la mercatistica parecchie notizie inerenti anche la statistica la questione stadio perché ci sono state le uscite del presidente della regione toscana sullo stadio però sono tutte cose che avremo tempo e modo di commentare in questi giorni qui che poi ci porteranno all'anno nuovo questa mini sosta natalizia che ci sarà faremo ora parlare di calciomercato di stadio di tutto quello che trova tanto sono questioni interessanti che di cui avremo tempo di parlare magari facciamo anche una bella live sulla fiorentina con qualche ospitata in settimana facciamo una cosa carina di questo tipo invece quest'oggi voglio concentrarmi sulla sfida contro la juventus di questa sera e perché ho scritto proviamo la pazzia ma perché mi sono confrontato anche con il buon simone avsim che saluto ma in generale ho sentito abbiamo sentito la conferenza stampa di brandelli ho sentito quella di pirlo e l'idea comune che ci si può fare qual è quella di una fiorentina che andrà a torino a cercare di difendersi e di ripartire in contropiede di fare del gioco di contropiedistica possiamo dire no cercando di sfruttare le occasioni che la juve può lasciare sul campo allora io vi dico per carità razionalmente è un qualcosa che nessuno ti rimproverà di fare nel senso che non è che puoi chiedere alla fiorentina di andare a torino a fare calcio champagne per carità di dio cioè è una cosa che razio in un piano razionale di analisi calcistica ci può stare però io vi dico due cose la prima è che la juventus è molto brava specialmente in questo periodo qua in questi in questi giorni qui ho visto la juventus contro il parma l'abbiamo anche commentata ho visto una squadra molto in forma una squadra che difende alta che pressa molto concentrata ma soprattutto una squadra che non ha problemi a scardinare difese chiuse non mi ha dato l'idea affrontando il parma che è una squadra anche lei che tende a chiudersi e ripartire la juve non mi ha dato l'idea di essere una squadra che ha problemi a scardinare difese chiuse anche perché è una squadra che in fase di non possesso ti gioca col 4 4 2 ma in fase di possesso è capace sì è vero di portarti 4 anche 5 uomini all'attacco poi quello che mi fa paura della juve è anche il fatto che non solo ha questa disposizione in campo ma è una squadra che specialmente nel reparto offensivo a parte che è la squadra più forte in italia secondo me sulla carta ma soprattutto nel reparto offensivo ha un sacco di frecce al suo arco perché tu devi far conto non solo dei vari chiesa culuseschi ma c'hai morata c'hai ronaldo se vuoi partite in corso vuoi far entrare di bala c'hai una centrocampistica che inizia a essere prestante c'hai dei difensori che su palla inattiva sono comunque sempre pericolosi vedi delicte bonucci quindi è una squadra che purtroppo se deve attaccare lo può fare può far male capito con tanti uomini e in tanti momenti della partita e poi c'è un altro un altro discorso che mi viene da fare noi stasera non abbiamo nessun onere nel senso che non è la fiorentina che deve andare a torino a vincere sebbene la nostra classifica sia un po difficile ma è la juve che in casa deve vincere con la fiorentina cioè è la juve che ha l'onere della vittoria proprio per questo siccome noi non abbiamo oneri particolari stasera non mi sarebbe dispiaciuto non mi dispiacerebbe vedere una fiorentina che invece va a torino con le due punte sarà una pazzia io vi ripeto ho messo nel titolo proviamo la pazzia ed è questa la pazzia che proverei una fiorentina che gioca con con le due punte ho visto che cutrone sarà indisponibile per problemi fisici ma c'è un quame allora perché non giocare magari con un quame vlaovic e un riberi trequartista o se preferite un castrovilli trequartista con pulgar dietro e riberi vlaovic quame perché no prendiamo l'imbarcata ma io vi dico anche uno sticazzi c'è chi se ne frega se prendiamo l'imbarcata però vedo una squadra che mi matura un po vedo degli schemi offensivi gradevoli vedo magari un quame che che ne sai che adesso quame e cutrone vengono dati in partenza da qualcuno a gennaio si dice crystal palace tizio caio ma che ne sai che magari non fai giocare quame proprio nella partita prima dell'inizio del calcio mercato invernale e riscopri magari un giocatore che come seconda punta a fianco a vlaovic può essere utile e può dar vita a quei meccanismi offensivi a quella a quella a quel a quel gioco di rimbalzo di rimpallo offensivo anche palla a terra che ti può essere utile che ne sai che magari non vedi del dell'intesa che può essere replicata anche in altre partite quando magari giocherai in squadra in in casa o anche fuori con avversari più alla portata perché non stasera perché proprio perché giochiamo contro la juve non si può magari andare lì a provare a far sta cosa delle delle due punte tanto ripeto non hai niente da perdere non è una roba che se perdi a torino onorevolmente ti è il caos i punti dovevi farli grosso modo in altre partite devi farle in altre partite no quindi io stasera sarei più ben disposto a provare una squadra con due punte con due punte vedi come va ti giochi le tue carte prendi l'imbarcata chi se ne frega io c'ho uno spirito zemaniano non so voi me non bene frega se perdo 7 a 1 6 a 1 frega niente non è quello tanto sempre zero punti sono sempre tre punti a vittoria sono e uno e uno e uno se pareggi dobbiamo andare a torino c'è una squadra più forte io non avrei paura a provare a giocare con le due punte visto cioè io ci giocherei sempre e lo sapete con le due punte penso sia brutto il fatto che non abbiamo mai visto questa fiorentina giocare con le due punte anzi vi dico di più è una delle principali cause se non la principale causa tattica perché poi ce ne sono anche altre di altro tipo del campionato che stiamo facendo se parliamo di tattica stasera voglio dire non è niente da perdere io io ci starei a giocare con le due punte onestamente con un trequartista dietro invece vedo che la formazione dovrebbe essere circa la stessa con cui abbiamo giocato contro il verona sassuolo 352 con liberi e vlaovic davanti teoricamente vediamo cosa si riuscirà a fare nella juve dovrebbe giocare ronaldo con morata poi forse subentra di bala giocherà chiesa ho visto le dichiarazioni che ha fatto prendelli ripeto mi ha dato l'idea di una di voler mettere in campo una fiorentina attenta una fiorentina che cerchi di giocare di ripartenza che si giochi le sue carte in quel modo vediamo come va c'è da dire che la juve quest'anno non ha brillato di continuità dal punto di vista dei risultati fa una partita buona poi ne fa una meno buona due buoni due negative se non è una juve che brilla di continuità però se devo dire una cosa che mi fa paura della juve è inutile girarci intorno è non solo la forza della rosa che ovviamente è superiore alla nostra ma anche sto fatto che in ogni gara ad organico al pieno ci hanno almeno 45 puntelli offensivi che possono schierare quando vogliono in qualsiasi situazione e far saltare tutto e far saltare tutto va bene ditemi cosa ne pensate vi ripeto attivate il campanaccio ci vediamo stasera per il commento alla partita forza fiorentina e a dopo